Devono rispondere di estorsione continuata le due persone arrestate nelle ultime ore a vittoria dalla polizia e dalla squadra mobile. Le manette sono scattate per Roberto Alecci Cavallo, 49 anni, e per la sua compagna, fortunata ad agosta di 36. Secondo quanto appurato dagli investigatori, la donna aveva lavorato dalla vittima come bracciante agricolo per poche settimane, carpendo la vulnerabilità di una famiglia di onesti lavoratori. Assieme al suo compagno, ha escogitato un modo per poter ricattare le vittime. Ha inventato di avere ricevuto dalla vittima di estorsione delle richieste di favori sessuali e che se avesse accettato, il titolare le avrebbe regalato settimanalmente dei soldi. A quel punto, il compagno Cavallo Alecci, indignato e offeso per queste avance inventate, si è presentato dalla vittima chiedendo un pagamento settimanale a titolo di risarcimento. L'impeditore ha pagato, ma poi si è rivolto alla polizia di Stato, raccontando i fatti. Cavallo Alecci, forte dal suo trascorso criminale, ha minacciato in ogni modo la vittima, riferendogli che se non avesse pagato avrebbe distrutto la sua azienda agricola, dandogli fuoco, arrivando a minacciare di morte lui e di familiari. La vulnerabilità dell'intera famiglia ha permesso ai due indagati di ottenere le prime due dazioni di denaro. Il pagamento avveniva ogni sabato, poi la coppia di estorsori ha alzato la posta, pretendendo 1.500 euro al mese. Proprio ieri la famiglia dell'impeditore ha ricevuto la richiesta estorsiva, seguendo le indicazioni dei delinquenti, considerato che sabato scorso non aveva soddisfatto del tutto le loro istanze. Questa volta però c'era la polizia ad attendere e non appena la coppia entrata in possesso dei soldi è stata prontamente bloccata. Tutte le operazioni sono state videoregistrate e le banconote sono state prima fotocopiate dalla vittima, così da poter affermare con certezza che fossero proprio quelle consegnate alla coppia. Cavallo Lecci è stato recluso nel carcere di Ragusa, mentre la donna è stata ristretta ai domiciliari. La consegna dei soldi è venuta in tre occasioni.